Horizon è un istituto di psicologia clinica e scienze corporee che ha un duplice obiettivo. Da un lato accrescere l'esperienza scientifica e di ricerca, dall'altro invece rispondere concretamente alle esigenze di coloro che portano nel nostro istituto la voglia di ritagliarsi uno spazio per prendersi cura di sé. Solitamente iniziamo con un primo colloquio conoscitivo e quindi poi si decide insieme il tipo di intervento mirato che può essere di ordine esclusivamente psicologico, di natura corporea oppure anche una combinazione di entrambi. Tina Antonucci è specializzata in diverse tipologie di trattamenti corporei, tra cui lo shatsu, il yoga passivo, l'ayurvedico e l'hockstone. Il piano della ricerca e quello della clinica hanno dato vita ad un modello che rappresenta l'elemento innovativo del nostro istituto e che abbiamo definito biopsico-funzionale. Il nostro istituto offre nuovi orizzonti per migliorare la qualità della vita, ritrovare se stessi e ripristinare l'armonia corporea e psicologica. Il nostro istituto offre nuovi orizzonti per migliorare la qualità, ritrovare l'armonia corporea e psicologica. Il nostro istituto offre nuovi orizzonti per migliorare la qualità, ritrovare l'armonia corporea e psicologica. Grazie.